Ora è una pastura su di me, come tardi non sarei più a me Piazza, ormai, tutti a guardarmi, sono nudo o vergogna e stacco mio Cado, mi rialzo e cado ancora, pesa sulla testa E vedo un riflesso, ma non sono quello lì, erano più chiari gli occhi miei E ringrazio davvero di cuore, davvero di cuore perché sono stato accolto molto, molto, molto gentilmente E voi continuate, ringrazio tutta e naturalmente tutti quelli che hanno lavorato Perché fosse possibile questo nostro incontro questa sera Cominciando dall'amministrazione comunale di Montagna Reale Poi il signor sindaco, che ho conosciuto persona molto gentile Ho conosciuto prima dello spettacolo Dottor Sidoti Il comitato Fessi da Maria Santissima del Tintari Tutta la popolazione, naturalmente, di tutti i contributi che sono stati dati E gli sporco sono Voglio correre, voglio andare, questa non è in casa mia Voglio correre, voglio andarmene, oltre questa galleria Lei mi aspetta e la devo provare, se ritardo ne può farsi male, male Voglio correre, voglio andare, questa non è in casa mia Voglio correre, voglio andarmene, oltre questa galleria Lei mi aspetta e la devo provare, se ritardo ne può farsi male, male E su queste noti iniziali io saluto e vi chiedo anche un bellissimo applauso Da molti decenni il mio pianista uscirà a settembre con il suo disco da solista E il cuore del pianoforte, il pianoforte prezioso del maestro Maurizio Mariano Poi c'è la batteria, altrettanto preziosa Da qualche decennio anche lui si trattiene con noi Fatte vedere, fatte vedere, anzi qui fa una stenda adesso Vuoi di qualcosa di maligno contro lui, non c'è il tempo che sta a chiove Ha la batteria, è il sodecarlo, l'imprescindibile Fa che io canti presto, le cose che sei Fammi fermare il tempo, che danza tra noi Lascia che si respiro, finché tu ci sei Il mio saluto al giorno, per non lasciarsi andare mai Io vorrei, il mio viaggio di rama da volte finisse con te E per noi diventassero e spero quale esserci amati Annullati, divisi, rincorsi, appagati Voglio che sia il respiro, l'amore tra noi E non piegarsi dentro, e darsi di più Lascia che si respiro, finché tu ci sei Io saluto al giorno, per non lasciarsi andare mai Io vorrei, il mio viaggio di rama da volte finisse con te E per noi diventassero e spero quale esserci amati Annullati, divisi, rincorsi, appagati E vorrei, il mio viaggio di rama da volte finisse con te E per noi diventassero e spero quale esserci amati E per noi diventassero e spero quale esserci amati E per noi diventassero e spero quale esserci amati Grazie, bravo! Ma... Davvero grazie, davvero buonanotte, davvero Dio vi benedica Iniziamo ancora il nostro manager Massimo Marramau Con tutto lo staff tecnico di questo momento è particolarmente preoccupato E le sordi di tutta quella roba lì, davvero un bel asplaudo di cuore perché hanno faticato tanto Se noi abbiamo faticato quello molto meglio Tutto lo staff tecnico che si chiude con il nostro mago dei suoni, lì in fondo è Ernesto Panaleo In arte gnatis, davvero grazie e purtroppo, 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 purtroppo Abbiamo continuato a volentieri, però noi siamo stati molto bene insieme a voi Ci siamo molto grazie Grazie Grazie